Buona domenica ragazzi, non avrò mai il sorrisone alla Berlusconi, no? Quello proprio così, ecco, però è quello che ho stamattina. Mentre bevete questo caffè, matutino, un po' più tardi rispetto al solito, anche per dar respiro alla live reaction, al video che ho fatto dallo stadium, andatevelo a vedere perché là iniziate un po' a percepire alcune situazioni che sono cambiate rispetto al solito, ma ne parliamo anche in questo video, vi racconterò la mia personale esperienza allo stadium. Parliamo della partita, parliamo della prestazione individuale dei giocatori della Juventus, parliamo anche della Lazio e delle altre squadre, per cui un video bello spesso in termini di minutaggio sarà suddiviso per argomenti, quindi abbiate un po' di pazienza. Io infatti vi invito a mettervi comodi, a bere il caffè e a commentare, poi a dirmi la vostra opinione se tutto quello che ho da dire, poi magari alcune cose specifiche vedete un po' voi, e iscrivetevi al canale per mostrare il vostro sostegno a tutte le attività che svolgo quotidianamente per rimanere sempre sul pezzo e aggiornati sulla Juventus. Partiamo dal principio, ieri è stata una bella prestazione, convincente, ragazzi io vorrei vedere sempre più queste prestazioni. risultato bello, rotondo, ma in discussione quasi, quasi perché il 2-1 loro, insomma, ancora c'è le distanze, ma poi, insomma, la chiudiamo, perfetto. 3-1, benissimo, giocato bene, abbiamo, secondo me, dominato la partita. tranquillità. Cosa vuole? Cioè, questo è quello che si chiede alla Juventus di Allegri. Non chiedo le geometrie variabili di Guardiola, però un calcio sì pragmatico, ma con delle idee come questa roba qua, che abbiamo visto ieri, bello. Tranquillità, meno scorie, cioè questa roba qua. Però ragazzi, io vi dico, non mi esalto per il futuro, ma sapete perché? Perché il campionato è come una maratona, composta da 38 km in questo caso, sono delle 38 giornate. Noi abbiamo fatto 4 km, per cui c'è da dare continuità, che è la cosa più importante. Se vogliamo ottenere gli obiettivi che ci siamo preposti all'inizio del campionato, dobbiamo dare continuità. Primo chilometro ho fatto molto bene, con l'Udinese, secondo, molto male col Bologna, terzo benino con l'Empoli, con qualche riserva, quarto, molto bene con la Lazio, che oltretutto rispetta le altre squadre, è una diretta concorrente, per cui fa gola questo risultato anche per questo motivo. Per cui ragazzi, io sono molto contento della prestazione di ieri, devo essere sincero, è stata veramente una buonissima partita, è tutto migliorabile poi. Si può sempre migliorare tante cose, tante uscite dal basso, che sono state veramente le poche criticità che ho notato ieri nella partita. Per il resto è una squadra compatta, accorta, che ha sfruttato bene gli spazi, ordinata in campo, ed è una squadra che mi ha dato tranquillità. Mentre guardavo la partita, cioè, ha avuto qualche spauracchio, sì, ma eravamo comunque contro una Lazio, che ha battuto il Napoli in casa loro. Poi il Napoli, sì, magari ha delle problematiche in questo momento, però ha sempre delle individualità pazzesche, Kvara, Ozymen, per cui, tanto di cappello a questa Lazio, si presenta allo stadio, ma comunque per 76 minuti e passa, c'è stato un dominio Juve. Poi qualcosa l'abbiamo lasciato anche a loro, ma è normale che sia così. Però dietro abbiamo gestito bene, difensivamente parlando. Davanti potevano fare più di tre gol, perché nel finale c'è quella situazione dove Weah la spara alta, dove Provedel si impegna su Rabiot, sul colpo di testa, e fa un paratone della Madonna. Miretti per questioni di centimetri non va vicino al gol, per cui sono tante le situazioni che la Juventus ha creato e io, ragazzi, ho poche cose da dire sulla partita, perché è stata veramente buona, di buona fattura, buona preparazione di Allegri in questa gara e nulla da dire. Magnanelli, chi sia, tutto il suo staff ha lavorato veramente bene per questa partita. Però adesso, ragazzi, col Sassuolo, non voglio la doccia fredda, bisogna continuare. Poi dopo il Sassuolo c'è il Lecce, infrasettimanale, e poi arriveranno altre partite e dobbiamo martellare. Dobbiamo fare bottino pieno, dobbiamo mettere fieno nel fienile, appunto. Ok? Quindi c'è da continuare così. La Juventus ha la fortuna, rispetto alle altre squadre, di poter programmare, serenamente, partita dopo partita, a suon di allenamenti, a suon di idee e concetti. Vogliamo vedere un po' di più sul campo. Non mi pare che sia delitto, perché vincere così a me piace. A me piace, perché mi dà l'idea la Juventus, quando la vedo vincere così, se iniziamo a dare continuità, la vedo come una squadra forte. Perché siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. E questa è la cosa più importante. Ma ieri, ragazzi, sono usciti allo stadio orgoglioso della vittoria. Orgoglioso. Non c'è stato nulla da dire. Nulla da dire. La Juventus ha strameritato. Punto. Cosa più bella di questa. Abbiamo portato a casa il risultato che noi meritavamo. Poi una Lazio che non ha fatto bene tante cose. Per carità, o cazzi loro, ma che me frega. A me importa vedere la Juve che va contro la Lazio e fa queste partite. Che non ci cagliamo addosso. Che nel momento di difficoltà, sti cazzi, faccio il 3 a 1. Mi fai il 2 a 1 per un errore nostro. Ti faccio il 3 a 1. Bello così. Grande risposta. Infatti l'importanza che ho dato a Vlauvić è che sta bene mentalmente e si vede. Ma non solo dalle giocate. Ma perché nel momento di difficoltà della squadra dove comunque la Lazio era salita nel secondo tempo. Boom. 3 a 1. Con un gol quasi casuale perché se l'inventa è tutto suo quello là. Bellissima la palla di McKennie. Però di una difficoltà inaudita nella gestione. Perché Vlauvić stava in mezzo a due. aveva Maruzic che lo tamponava da dietro. Accanto, non mi ricordo se aveva Casale o Romagnoli. Comunque il difensore centrale bravissimo Vlauvić che già solamente con lo stop fa la metà del gol. Poi la preparazione e il tiro sono stati veramente pazzeschi. Col destro. due gol di destro. Vedete la testa quanto è importante. Lui sta bene secondo me fisicamente. Se ne accorge. C'è stato anche il pubblico ieri che secondo me una spintarella alla latta dal punto di vista motivazionale e dal punto di vista voglio dimostrare di poter far bene davanti a questo pubblico. Ha fatto bene. Chiesa gran partita. McKennie gran partita. Chi ha stonato un pochettino è Bremer. Infatti l'unica criticità che ho trovato ragazzi è nella costruzione dal basso quando la palla tra i piedi ce l'avevano i difensori. Sia Gatti che Bremer pare che quasi la palla scottasse un pochettino. Tante imprecisioni tecniche errori che possono costare caro. E c'è costato caro ieri perché comunque il gol arriva da un recupero palla e un grandissimo tiro di Luiz Alberto meraviglioso. Giocatore straordinario di una bellezza esagerata da vedere giocare. Danza nel pallone. Danza con la palla. Ha una leggiadria c'è a confronto quando gioco sono il peggior scaricatore di Porto. Lui invece ragazzi è un ballerino bellissimo da vedere bellissimo. Bel giocatore gol straordinario 2 a 1 poi noi siamo stati bravi 3 a 1 e poi ripeto potevamo anche dilagare se non fosse stato per prove delle o per delle situazioni di imprecisione lì davanti alla Porta ragazzi cioè potevamo fare di più per cui io sono estremamente soddisfatto della Juve. Ora passando ai singoli andiamo subito ai voti. Scesni ragazzi partita ordinaria non è che abbia fatto interventi straordinari ha fatto qualche uscita quindi un 6 e mezzo e lo possiamo andare Gatti 6 e mezzo non ho capito bene una cosa poi ne parliamo anche sulla questione polemica arbitrali eccetera secondo me 6 e mezzo preferito ad Alexandro e secondo me sta dimostrando di essere superiore ad Alexandro mi dà più certezze sono meno in ansia c'è Zaccagni ragazzi non è che sia entrato dentro l'area non è che è sgusciato facilmente eccetera non ha trovato spazio da quella parte Bremer 5 e mezzo secondo me il gol è in gran parte colpa sua difensivamente non gli si può dire nulla nulla Bremer perché è stato impeccabile ha preso immobile se l'ha infilato in tasca spero che non lo sia riportato a casa ma che l'abbia mollato per rientrare da Caselle che poi vorrei capire anche la Lazio come rientrata da Caselle perché c'è stato un piccolo problemino c'è in realtà un grave problema mi spiace per quella bambina che purtroppo è morta in questo incidente dalle frecce tricolori un abbraccio a lei e a tutta la sua famiglia però insomma Bremer tanta roba scusate il divagare ma mi è venuto in testa poi il perché Danilo secondo me dai ha fatto una partita la classica 6 e mezzo McKennie 7 secondo me da 7 ha fatto un assist ha fatto una partita difensiva di grande attenzione tanta intensità tanta roba Miletti Miletti 6 e mezzo perché ha avuto delle imprecisioni iniziali ma ha entrato in partita molto molto bene con coraggio Fagioli 6 ok si vede che secondo me non è ancora in condizione totale ma veramente ragazzi ingranerà ingranerà poi Locatelli gli do un 6 e mezzo ha fatto anche lui il suo Rabiot 6 ancora in ombra secondo me deve migliorare Kostic 6 anche lui un po' in ombra anche se ha fatto una chiusura ragazzi al bacio una diagonale difensiva sul tiro di Felipe Anderson forse non vorrei dire castronerie di una bellezza anche quella sul gesto difensivo importante Chiesa ragazzi 7 e mezzo totale cioè Chiesa ragazzi sta riprendendo ma poi con Vlaovic si trovano stanno diventando una coppia ben assortita iniziano a trovarsi iniziano a fuori di giocare insieme questi qua vedrete ragazzi che prendono un po' di feeling Vlaovic 8 ringrazio il cielo che il Chelsea non ha avanzato delle offerte importanti per lui ringrazio il cielo ringrazio il cielo perché quel gol Lukaku non l'avrebbe mai fatto poi avremmo giocato probabilmente in un'altra maniera con Lukaku per le caratteristiche che ha ma Vlaovic ragazzi tecnicamente non si discute mai mai cioè si discute quando hai i primi controlli e si discute tecnicamente però ragazzi che giocatore cioè gli ha fatto due gol da bomber vero a Lega gli do un bel voto gli do un bel voto cioè gli do un bel 7 secondo me ha fatto una buona partita l'ha preparata molto bene contro una diretta concorrente ed è quello che gli si chiede a lui cioè vedete ragazzi io non chiedo cose trascendentali non chiedo il bel gioco queste cose qua chiedo un gioco efficace che porti a casa la pagnotta in questa maniera senza pattemi senza rotture di cazzo questa roba qua cosa chiedere di più alla Juventus ora parliamo invece di Maresca ieri ragazzi non ne ho parlato nel post partita ne volevo parlare testimone Bert se stai guardando questo video Bert dillo anche tu nei commenti ma ragazzi io ho invito più volte con l'arbitro in genere io sono un santo perché capisce che l'arbitro può sbagliare ma ieri ci ho visto della malafede nella gestione di cartellini che stavo impazzendo la gestione di cartellini di Maresca è stata rivedibile è un arbitro a mio parere scarso 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 e questo è internazionale ragazzi scarso arbitro scarso ora per quanto riguarda la polemica legata alla palla dentro palla fuori di McKennie da alcune immagini ragazzi da alcune immagini sembra fuori ma è normale è una questione di prospettiva se la guardiamo dall'alto quella linea si vede che la parte esterna è la palla quella centrale un po' più rialzata rispetto al terreno di gioco la sfiora quella linea per cui non capisco tutto sto casino non lo capisco non capisco questa pagiacciata che ha fatto la Lazio non la capisco quella del non pronunciarsi in conferenza stampa nel non dire nulla e non andare lì per le questioni degli errori arbitrali caso strano hanno scelto di non andare in conferenza stampa quando giocavano contro la Juventus perché la cosa fa rumore invece la trovo una cosa patetica patetica perché non è stata una partita decisa dai singoli episodi questa è stata una partita decisa dal dominio della Juventus punto e la trovo una cosa un tentativo patetico mediatico perché c'è la Juve di mezzo perché la Juve di mezzo è il contentino che dai ai tuoi tifosi per dire la Juve e ci siamo fermati all'uomo di Neandertal allora ragazzi una scimmia ragionerebbe meglio ecco senza scherzi ragazzi una scimmia uno scimpanse andiamo in Africa gli presentiamo la medesima situazione direbbe che cazzo vai vai in conferenza stampa lo scimpanse lo direbbe così esattamente così patetica non è una cosa presa da Sarri è una scelta di lotito e società ragazzi per cui un ordine che arriva dall'alto poi lunedì parlerà per la conferenza stampa della Champions League sono curioso di sentire che ha da dire una pagliacciata ragazzi senza mezzi termini tornando invece all'Inter ragazzi al derby di Milano dobbiamo parlare anche delle altre perché sono dirette concorrenti un Inter che in questo momento dimostra di essere la squadra che ha più giri nel motore che va di più delle altre che segna tanto pericolosa subisce molto poco ha subito un solo gol in quattro partite quindi i numeri dicono questo ci propongono questa roba qua ieri debacle totale del Milano un'umiliazione pazzesca per i tifosi rossoneri e mi spiace perché lo sanno bene i tifosi rossoneri che colpo gobbo e tanti juventini amano questo gemellaggio delle brigatte rosso bianco nere quando si è contro l'Inter ok però ragazzi non si salva nessuno ieri del Milano nessuno solo Giroud Leao qualcosina troppo poca cosa una squadra che ieri era completamente sbilanciata in balia dell'Inter l'Inter che vince meritatamente proprio un cazzo da dire da questo punto di vista e che c'è da dire che l'Inter è la squadra secondo me fortemente candidata allo scudetto se pensavamo al Napoli come potenziale altra è una squadra che sta facendo molta fatica a ingranare ieri col Genoa due pari a noi tutto sommato vi dico se non possiamo puntare allo scudetto perché non abbiamo le forze parete che questo è da vedere noi giochiamoci partita per partita con quella preparazione che ci abbiamo messo per io e Lazio giochiamoci con voi senza timore poi insomma è importante questa cosa qua e poi vediamo cosa ci porterà il campionato e questi scontri però ragazzi c'è da dire che la debacle del Milan e il pari del Napoli contro il Genoa dopo la sconfitta con la Lazio eccetera a noi sono cose che fanno piacere per la questione della Champions una Roma che fa fatica noi ragazzi queste notizie devono far piacere in parte al di là dell'Inter che va avanti però per il resto vedere altre competitor che hanno delle difficoltà insomma ragazzi non male poteva andare poteva andare poteva andare anche molto peggio io vi dico una vittoria del Milan cazzo mi avrebbe preoccupato in termini quindi c'è lì c'è anche il Milan cazzo forte invece il Milan che perde così mi fa ben sperare però ragazzi si tratta sempre di un chilometro sui famosi 38 questo è il quarto chilometro ora pensiamo al quinto con questa voglia andiamo a non a Sassuolo andiamo a Ligio 1000 a giocare contro il Sassuolo e dimostriamo anche là con la stessa voglia e con la stessa cattiveria con la stessa intensità con lo stesso agonismo con la voglia di essere protagonisti quest'anno questo è importante ripeto su ieri estremamente soddisfatto un ultimo ma non per importanza non è che per fortuna è tornata la curva e se ne sono accorti tutti i giocatori tutti i giocatori sui post hanno detto ci siete mancati veramente hanno espresso tutti delle belle parole per la curva e credo che ci sia un clima un po' più disteso tra gli ultra e la società perché già l'ingresso di tanti bandieroni è buon segno ora forza società un po' di rumore mettiamoli sti tamburi mettiamo un po' di casino perché ieri lo stadio spesso ha accompagnato i cori della curva ma senza la curva quello stadio là è una merda noi ieri abbiamo zittito i laziali a più riprese e questa cosa non accadeva da tempo mi basta poco veramente per emozionarmi però ieri vedete pensare a un ipotetico sliding door di questa stagione positivo una vittoria con la Lazio con la curva che ritorna con lo stadio che canta eccetera sono queste le good vibes di cui abbiamo bisogno buona domenica ragazzi se siete interessati magari a una live serale in occasione di Roma eccetera eccetera Empoli la vediamo così cazzeggiamo più che altro chiacchieriamo noi un abbraccio belli e sempre fino alla fine forza io scusate se mi sono dilungato tanto ma avevo tante cose da dire ciao belli grazie a tutti grazie a tutti